E' una cosa interessante, magari farla dopo scena, dopo averne avuto un bicchiere di vino. Però credo che lo scopo per cui oggi noi siamo qui è fare la politica. E fare la politica significa stabilire le azioni che una comunità, che un gruppo di persone, che probabilmente sono una diversa dall'altra, ma che hanno alcuni punti in comune, possono esplicare della realtà. E quindi il primo invito che è quello di Ambedeo, io lo condivido, stringiamoci intorno ad Umberto per far sì che non solo diciamo questo ruolo in qualche modo incrementato di Umberto dopo la squallida vicenda del primario, non solo per manca, ma non rimanga semplicemente un ruolo di denuncia politica, un ruolo di critica politica, ma che nei fatti diventi, nel Partito Democratico di Napoli, nel Partito Democratico Nazionale per quanto possibile, e soprattutto nella vita di questa città, un fatto. Io credo, e qui insomma la relazione di Umberto ha messo in luce, c'è pure una persona a cui penso va la nostra simpatia in questo momento, con una persona seria, con un'inversale. Forse, ecco, tra i vari errori commessi, c'è uno in luce che non è solo un errore di inversali, ma forse un errore un po' di una certa politica ipocrita che abbiamo vissuto in questi anni, che non è l'errore di lottavare le primarie di cui abbiamo pagato le conseguenze con l'attuale situazione dell'amministrazione comunale napoletana. È stato l'errore di inseguire Grillo con le otto proposte, perché in realtà sono c'erano anche alcune cose che possono essere condivise. Sicuramente il finanziamento o il riborso elettorale dei partiti era sovrammisurato, tanto che ha permesso a alcuni leader di costituirsi un patrimonio immobiliare, cose che poi venivano a partire i rifiutati. Anche ridurlo, la proposta nata dal PD, è quasi un po' imbarazzante, perché ci voleva Grillo o lo scandalo d'Italia per accorgermi che questi soldi addirittura alcuni partiti non riuscivano a spendere. Ma la cosa poco seria è stata inseguire su questi slogan, alcuni anche condivisibili, e su un rinnovamento frontale della politica, delle cose che è un momento di estrema difficoltà, di enorme difficoltà nel paese, perché veramente è mancata, non per colpa di molti, forse anche per una missione politica angusta di molti, forse per i paletti posti dalla situazione in Europa e nel mondo, è mancata e sempre più manca la fase che inziana, la fase espansiva, di cui abbiamo bisogno, se vogliamo far ripartire il motore della nostra economia e quindi creare l'occupazione che non solo serve a disoccupati, ma serve a tutto il paese per rimettersi, come serve al mezzogiorno in particolare, qui abbiamo uno studioso di storia dell'economia e di economia. e quindi qui abbiamo un debito proprio di serietà, un vento ragneri, oltre che un politico esperto di una persona che ragione, è una persona seria, quindi io ti chiederai, Roberto, tu ti devi mettere a capo di una battaglia che dobbiamo fare a Napoli, io ho dei dubbi che la proposta di Giuseppe Calasso, il mio antico maestro, possa trovare attuazione, perché io negli anni 90 da presidente dell'autorità portuale ho avuto a che fare con la giunta Bassolino, che forse è la prima giunta Bassolino, di tante giunte, comunque aveva alcuni assessori di un certo profilo, di un certo dinamismo, di un certo... eppure quella giunta lì, a me che, insomma, volevo fare certe cose che riguardavano un po', su molti problemi, è sembrata insufficiente, è sembrata molto irrequente, è sembrata molto tessa a vivere alla giornata, adesso c'erano le pianificazioni dell'uscita che erano poi magari un problema sotto un altro aspetto, sicuramente non mancavano di serietà e di... ma figuriamoci con... scusate, con De Magistris, ho fatto un lapsus, con De Magistris, sindaco di Napoli, dove troviamo queste 12 persone disposte, ammesso che il sindaco arrivi a questo? Allora, qui naturalmente c'è un confronto politico che non può essere una battaglia, se no poi le macerie sono quelle nostre, della città di Napoli, con De Magistris. E poi c'è questa battaglia all'interno del Partito Democratico con Napolitano, cioè qui ci sono sicuramente delle persone impassionate che vivono i tempi attuali con grande angoscia, ma anche forse con l'automismo e la volontà di voler dare delle risposte. Però probabilmente non ci sono le tessere, i voti e questo è qualcosa che deve avvenire, cioè le idee, come diceva il grande Keynes, muovono le idee per fare la storia, per cambiare la storia, perché questo è... chiaramente hanno bisogno di democrazia di un consenso e di un soffragio. Quindi io chiederei agli altri interventori di fare delle proposte e poi con un vento di cercare di fare un percorso politico, di azioni politiche, sia all'interno del Partito Democratico. Io poi ho votato Renzi, però questa, scusatemi, poi finisco, non darei neanche questa delega in bianco, naturalmente per la tua proposta di ieri avrai avuto le tue motivazioni eccetera eccetera, però quello che vorrei dire nel confronto tra di noi, insomma anche Renzi è un soggetto che ha fatto il Presidente della provincia e il Sindaco del Re per certi due anni con giudizi discordanti. Era sicuramente di nuovo rispetto a un sistema ingessato che andava in qualche modo messo in difficoltà, però forse è anche un elemento che deve studiare il meridionalismo di Renzi, le politiche di Renzi, cioè il mio suggerimento è di non dare delega in bianco a nessuno, neanche a Renzi. Grazie. Grazie.